I gradi di intensità dell'aggettivo. L'aggettivo ha tre gradi di intensità. Il grado positivo, quindi quello dell'aggettivo qualificativo così come l'abbiamo studiato fino ad adesso noi, segnala la presenza della qualità senza precisare l'intensità dell'aggettivo o comunque senza metterlo in paragone, in confronto con altri aggettivi. Poi abbiamo il grado di intensità comparativo. Con il grado di intensità comparativo abbiamo invece un paragone. Basta adesso però, se non state zitti, io spiego solamente i numerali e basta. Anzi, mettiamo immediatamente una nota sul registro a chi parla nel corso di questi minuti. Allora, stavo dicendo, il grado comparativo. Nel grado comparativo l'aggettivo esprime la qualità stabilendo un confronto tra le persone e le cose. Per esempio, Andrea è più alto di Giovanni, comparativo di maggioranza. Andrea è alto come Giovanni, comparativo di uguaglianza. Andrea è meno alto di Giovanni, comparativo di minoranza. Poi abbiamo il grado superlativo, quando l'aggettivo esprime la qualità posseduta al massimo grado, con due possibili accezioni, però. Superlativo assoluto e superlativo relativo. Gobbi e Caserta, state attenti perché la prossima volta segniamo sul registro di classe. Ecco, quindi stavamo dicendo, nei comparativi di maggioranza e di minoranza, il secondo termine di paragone è introdotto dalla preposizione di quando è costituito da nomi o da un pronome non preceduto da preposizione, oppure da un avverbio. Quindi, per esempio, mio fratello è più giovane di me, quindi di me è un pronome, oppure un nome non preceduto da preposizione, oppure un avverbio, per esempio, oggi è più caldo di ieri, abbiamo il di. Invece, la congiunzione che è quando i due temi di paragone sono nomi o pronomi retti da preposizione, oppure aggettivi, oppure verbi. Quindi, per esempio, Andrea è più intelligente che studioso. Ecco, vedete qui c'è un aggettivo come secondo termine di paragone, allora abbiamo il che. Oppure, quando ci sono dei verbi, mi piace, per esempio, più giocare alla Playstation che studiare italiano. Ecco, in quel caso, vedete, c'è il verbo come secondo termine di paragone, allora c'è il che. Bene, il di quando è un nome, un pronome o un avverbio. Il che è quando i nomi o i pronomi sono retti da preposizione. Per esempio, preferisco andare al cinema con una bella ragazza più che con un ragazzo. Ecco, in quel caso il nome è preceduto da una preposizione, con, è preceduto dalla preposizione con, e quindi ci vuole il che. Quando il nome o l'avverbio sono preceduti da preposizione, allora ci vuole il che. Per esempio, che ne so, per esempio, vediamo un po' se riesco. Ah sì, ecco, il mio collega di francese preferisce andare a mangiare con la collega di matematica più che con me. Che con me. In quel caso il pronome è preceduto da con, e allora ci vuole il che al posto del di. Bene, il grado superlativo. Il grado superlativo indica la qualità nel suo massimo, nel suo minimo grado, e si distingue in superlativo assoluto e superlativo relativo. Superlativo assoluto, intensità massima o minima. Ecco, generalmente il superlativo assoluto lo si forma con un suffisso, che è suffissoissimo. Per esempio, largo, larghissimo, pio, piissimo, vario, varissimo, giovane, giovanissimo. Però il superlativo può essere espresso anche in altri modi, con un avverbio, per esempio, molto piacente. Quella donna è molto piacente. Oppure, assai, questo problema è assai complicato. Estremamente, questa arrampicata è estremamente difficile. Oltremodo, la relazione dell'esperto fu oltremodo noiosa. Oppure, può essere espresso il superlativo assoluto con dei prefissi, per esempio, arcinoto, ultraleggero, straricco, extraconiugale, iperattivo. Iperattivo, iperteso, benissimo. Sovraeccitato. No, il mercato è un'altra cosa. E quello è un nome, non è un aggettivo. Super preparato, eccetera. Oppure, può essere preceduto da tutto, o seguito da un aggettivo, un nome, una locuzione. Quindi, si può trovare in sbagliati modi. Il superlativo relativo, ecco, abbiamo anche visto che certe volte viene usato in modo improprio. Il superlativo, per esempio, con i nomi. Abbiamo visto nelle pubblicità pomodorissimo, insalatissima, offertissima, filmissimi e via discorrendo. Il superlativo relativo esprime il possesso di una qualità al grado massimo o minimo e quindi assomiglia a un comparativo preceduto però dall'articolo. Per esempio, Giovanni è il più bello della classe. Oppure, lui è il meno simpatico tra tutti i miei amici. Il cane è l'animale più fedele all'uomo. Questo è il superlativo relativo. Il superlativo relativo è seguito da un complemento partitivo. Per esempio, questo libro è il più bello di tutti. Di tutti è un complemento partitivo. Ecco, per non sbagliare, state molto attenti. Il comparativo di maggioranza non è preceduto dall'articolo, mentre il superlativo relativo sì. Casi particolari di comparativo di superlativo. Allora, ci sono alcune parole che hanno un comparativo, un superlativo irregolare. Per esempio, alcuni aggiungono il suffisso errimo. Per esempio, il superlativo di acre è acerrimo, non acrissimo. Di celebre, cereberrimo, non celebrissimo. Di misero è miserrimo. Aspro, asperrimo. Integro, integerrimo. Salubre, saluberrimo. Alcuni aggiungono il suffisso entissimo. Sono tutti gli aggettivi che terminano in fico e volo. Quindi, munifico, munificentissimo. E anche dico, vero? E anche dico. Fico, volo e dico. Quindi, malefico, maleficentissimo. Malevolo, malevolentissimo. Maledico, maledicentissimo. Poi, andiamo avanti. Altri superlativi e comparativi irregolari derivanti dal latino sono migliore e ottimo, comparativo e superlativo di buono. Peggiore e pessimo, comparativo e superlativo di cattivo. Maggiore e massimo, comparativo e superlativo di grande. Minore e minimo, comparativo e superlativo di minimo. Di piccolo, scusate. Anche gli avverbi meglio e peggio, comparativi di bene, possono essere usati in funzione di aggettivi. Per esempio, il tempo oggi sembra peggio di ieri. Oppure in espressioni partitive. Vorrei qualcosa di meglio. Con valore neutro, nel significato della cosa migliore, anche in funzione sostantivata, è meglio arrangiarsi. Ecco, invece altri superlativi, comparativi, eccetera, sono derivanti da termini latini, preposizioni, che in italiano non ci sono più, ma c'è rimasto questo comparativo, questo superlativo in italiano. Per esempio, ante, comparativo anteriore. Ante non c'è più, ma questo comparativo anteriore esiste ancora. Così, esteriore ed estremo, che derivavano da extra. Inferiore, infimo, che derivavano da infra. Interiore, intimo, che derivavano da intra. Prossimo, che derivava da pre o da prope. Poi, posteriore, postremo o postumo, che derivavano da post. Prossimo, che deriva da prope o da pro. Superiore, supremo o sommo, che derivavano da supra. E ulteriore e ultimo, che derivano da ultra. E citeriore, che deriva da citra. Benissimo. Allora, attenzione a non sbagliare, quindi per esempio, una volta che c'è già il comparativo superativo, non farlo precedere da un più, non si può dire più migliore, oppure, diciamo, davanti a ottimo, minimo, acerimo, estremo, non mettere il grado superlativo. Attenzione anche perché alcuni aggettivi, come enorme, infinito, eterno, meraviglioso, hanno già in sé il valore di superlativo, quindi non possono essere usati a superlativo. Infine, non ammettono né il grado comparativo né il grado superlativo gli aggettivi che esprimono caratteristiche o qualità specifiche, perciò non graduabili dal punto di vista dell'intensità, come statale, cubico, conico, chimico. Caratteristiche politiche, culturali, religiose, come, appunto, musulmano, cristiano, siciliano, idealista. Gli aggettivi che esprimono già una qualità di intensità massima, l'abbiamo già detto, anche questi non possono avere i comparativi. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org.news